Cosa è la città metropolitana? Cosa è la città metropolitana? Nell'ottica della massima condivisione e concertazione possibile, cioè non ci sarà nessun atto che faccia apparire una posizione di supremazia da parte del sindaco metropolitano, pur nel rispetto ovviamente alla cornice della legge che è molto chiara e dà delle attribuzioni molto molto chiare. Adesso bisogna subito iniziare un rapporto molto forte che in parte abbiamo già cominciato con la provincia uscente e poi con tutti i sindaci dell'area metropolitana.